considera che questo è come de florislava gabriele fa il suo percorso guardate com'è veloce ce l'hai fatta pronta sofì vai mani unite 1 2 3 ciao amici e bentornati sul nostro canale dove siamo oggi sofì il nuovo trampolini parte che ha aperto qui a bari guardate è questa parte il pellegram e là dietro c'è un sacco di trampolini potete fare tanti esercizi e li vedremo con sofia cercherò di fare un blog mentre sofia e all'interno con gabrie che si sta preparando ciao vai sofì in questa attrazione devi saltare mai ok vai gabri anche tu adesso ti devi abbassare abbassati gabri vai attenzione sopì si chiama carusel questo gioco sopì considera che questo è come le flori slava le flori slava non devi toccare vai ci sei quasi gli ultimi due sofi dai vai prova a fare un salto prova a fare un salto con i piedi vai 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 da florislava attenta o prendi la rincorsa e salta è uno è perso all'ultimo cosa andiamo a vedere adesso forse questo è più facile acchiappa ti ci sei vai adesso fino a ti vedo sei qui appesa braga adesso siamo nella maxi arena è veramente maxi guardate quanti trampolini ci sono sono uno due tre quattro cinque file ma è grandissima eccola la sopì ciao sopì per provare a fare la capovolta c'è anche gabri ciao capri gabrile fa il suo percorso guardate come veloce bravissimo uno due tre ce l'hai fatta sopì questa attrazione si chiama wall devi saltare aggrapparti e scavalcare sei pronta a prova dal cubo più facile vediamo uno due ma questo è facilissimo per te sopì proviamo direttamente quello difficile 123 vai spingi 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 sopì ma questa è una ginnastica una palestra ti stai stancando è però è veramente divertentissimo no ma quello è impossibile sopì no vabbè sopì ci sei riuscita quello altissimo amici ma io mi sto stancando solo a guardarti sopì adesso facciamo questo qua il airbag sopì devi saltare al contrario ok le mani unite questo esercizio si chiama slam dunk devi fare canestro ovviamente non ti chiediamo di appenderti però salta e cerca di fare canestro vai 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 brava canestro al primo sei stata bravissima sopì sofia questa attrazione si chiama dodge ball ci sono tantissime palle e bisogna fare una sfida con gli amici per adesso noi siamo solo con gabri ma sicuramente si gioca lanciandosi le palle vediamo cosa ha in mente di fare rondata e salto in avanti sofia i nostri cinque cinquantacinque minuti sono finiti come è andata allora sono stanchissima alla fine ho imparato una cosa nuova e ti sei allenata sì e mi sono divertita un sacco se vi trovate nei pressi di Bari io ve lo consiglio così vi divertirete un'ora di spensieratezza alla prossima ciao ciao